Sì, ok, dieci minuti qua all'arrivo della metropolitana berlinese, la nostra West End Ring, non so quale sia di preciso, probabilmente la West End, sono qui con Andrea Ricci. Ciao a tutti, io sono Andrea, non sono Andrea Ricci? No, è Andrea Ricci. Ma non sono Andrea Ricci? Andrea, non è sto figo. Andrea, meno male che sia arrivato tu. No, lui era Gianluca. Ma se io non sono Andrea Ricci, come mi chiamo io? Come ti chiami? Guarda chi c'è qua. Ciriagnano, abbagnano. Ma quello è quello famoso che fa la pubblicità della Coca-Cola. Ma... L'orso. Ma su che canale va questa cosa? Lui... Su RTV33. Lui è quello che faceva i messaggi subliminari sui Simpson. Fumate. Fumate. Fumal aramite. L'hanno... Aspetta, non era forse Futurama. Vabbè, quello lì l'abbiamo assunto perché ci sprovano a scrivere. L'hanno leggermente modificato. Adesso dice scrivete. Sì. E... Bravo, di oggi la mia giornata è andata molto bene. Bravo, scrivi. Va bene, va bene. È la media dei discorsi con Claudio. Oggi, dato che ci hanno dato il permesso di registrare questi video... Guarda quanto fa il fazzico sullo sfondo Andrea così. Dove? Il terzo da poi vende ancora non nata. Andrea... Andrea, nome di battesimo, Blink182. Tregis Andrea, lo chiamava? Bene, allora, io vorrei dire, oggi... Che siamo venutamente in controluce. Mentre noi, vabbè, sì, siamo in controluce, vi mostro la scolaresca qui dietro. Ci sono i bambini inquietanti che vanno a Lipa a distruggere gli iPhone. iPhone che sono usciti ieri. Giusto, un commento a caldo. No, nessun commento a caldo, no. Basta la mia maglietta. Basta un commento a caldo, un commento a caso. Oh mio Dio, si sta togliendo tutto. Cos'è? Sì, se ci metti il video davanti, mi sa che non si vede... Sì, Android, ok, sono molto contento, soprattutto perché è una maglietta che costa poco, non costa 729 euro in abbonamento. Non costa 729 euro in abbonamento, ne costa 1059 perché decida l'espansione di memoria e quindi siamo contenti. Andrea, ma ti rendi conto di una cosa? Oggi è l'ultimo giorno di fiera, il nostro ultimo giorno completo di permanenza qua perché noi domani abbiamo un volo per Roma. No, aspetta, tu vai a Milano, io a Roma, quindi noi ci abbracciamo prima. Ci abbracciamo prima. Ok, perfetto. Senti, ti è piaciuta questa esperienza? Sì, mi è piaciuta. C'è un treno in arrivo che mi uscirà un po' di collision, ma è un nostro treno. L'esperienza IFA 02014 mi è piaciuta. È una fiera molto, molto, molto faticosa e essendo aperta anche al pubblico richiede un grado. Scusate, Breaking News, hanno deciso di regalarvi un LGL Bell e un LGL FIFA. Grazie, grazie. In versione coreana però. Sì, assolutamente, è lo vero, è lo vero, è lo vero, è un sistema operativo. No, è un sistema operativo. Android 4.4 KITUKATU. 4G1 KITUKATU. Sì, meglio di dire stupidaggine, abbiamo un'utenza che richiede serietà. Ok, e dove? I bambini. Ah, i bambini. Comunque no, l'IFA è faticoso. Faticoso? Faticoso rispetto, soprattutto rispetto al Mobile World Congress che essendo a solo stampa, essendo secondo me anche organizzata un pochino meglio, si gode un po' di più rispetto a l'IFA che è grossa, veramente... Poi insomma, questi tedeschi rispetto agli spagnoli del Mobile World Congress conservano ancora quella punta di razzismo verso i celiachi, e quindi ti impediscono di mangiare. Abbiamo visto Andrea molto provato in questi giorni per via del cibo, in quanto non può mangiare praticamente niente. Qui hanno un'ottima selezione, veramente ottima, di Wustel, Wustel con Wustel, Wustel in salsa hume di Wustel, e soprattutto il top è Wustel, ricoperto di caviale di Wustel, che è notevole, però purtroppo non lo posso mangiare per motivi di presenza del glutine. Tu pensa che anche l'insalata del McDonald's che hai mangiato è stata fatta con il Wustel e poi tinta di verde. Esatto, quindi anche lì ha dolore fisico, ha morte apparente, però siamo andati avanti e quindi siamo qui oggi a Heidelberger Platz. Heidelberger Platz! L'Istit Stati Uuuuh! Oddio mio! Vabbè, Stefano stamattina dovete sapere che ha assunto delle strane sostanze. No, io vengo controllato tramite un cappello che per oggi non c'è. Ah, è vero, il cappello che ti ho fatto. L'ho dimenticato. L'hai strano. Assieme a tutti i miei badge. Stefano dimentica ogni mattina qualcosa di diverso. No, dovete sapere che tutte le mattine io dimentico il badge e poi vado a fare il provolone, vado a fare il piagione dalla tizia del press e dico Oh, ho lasciato il mio badge a casa. Che posso fare oggi? E ogni volta si rifare un nuovo badge, quella là, chi sa quante battute li tira. Ci sono dei piccoli ausiliari del traffico in arrivo. Adesso li vedrete qua. Sì, sono laggiù, dovete andare agli assolutamente a vedere. Ma dobbiamo preoccuparsi. Andiamo a vedere. Questo è proprio vita da Berlino. Guardate i piccoli ausiliari del traffico in arrivo di. Ma dove sono là? Oh mio Dio, aspetta. Ah, ma c'è un'altra gamma di Berlino. C'è una nuova gamma con Android 4, 4, 4, 4. Che bugato? Aspetta, leviamoci perché altrimenti questo ci mette sotto. E con questo bellissimo sfondo torniamo a parlare del fatto che... Per te non era il primo evento questo, giusto? Per me it wasn't the first event. Appunto, Barcetona è stato il primo. Questo è stato il secondo. Claudio vuole essere inquadrato sicuramente. Guardate che figo il nostro motivatore. Il motivatore. Motivatore studiato. Claudio, cosa stai facendo? Scrivete. Scrivi. Scrivi, a prescindere. Claudio, che fai? Scrivi, sempre scrivi. Che fai? Ma che bella qualità video. Che bella qualità video, soprattutto in queste cattivissime condizioni di luce. Ascolta, chiudiamo che siamo quasi a 7 minuti di video. Sì, infatti poi come cavolo lo esporto. Sì, esatto. Va bene. Ci vediamo a un prossimo video della giornata. Ci vediamo, sicuramente avremo un prossimo appuntamento un po' più ricco di cose. E un po' più critico di Apple. Sì, infatti non vedo l'ora di parlarne male. Sì, no, perché già non l'abbiamo fatto, non abbiamo detto nulla dell'Apple Watch ad esempio, dell'Apple Pay, questi rumori strani dal treno. Di questo Keynote tutto così. Oh, dai, allora presentiamo l'iPhone, poi presentiamo l'Apple Pay. Oddio ragazzi, dobbiamo presentare l'iWatch. E niente, ne parleremo in un altro video, molto meno ufficiale di quello di ieri, da Sony Xperia Z3 e Z Compact. Sì, va bene. Un saluto, no, poi c'è anche Z Compact Mini di là. E i due Xperia Z Tablet. Vai. Un saluto e al prossimo video. Ciao.